Un incendio è divampato oggi verso le ore 17 in via De Gasperi ad Arco. Ad andare a fuoco una baracca di vita a deposito e la vicina legnaia, posti nel giardino di una villetta privata a fianco del supermercato Conad. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme che avevano avvolto anche le piante del giardino. Molte le villette adiacenti alla zona dove è divampato l'incendio e i pompieri si sono prodigati affinché le fiamme non raggiungessero le abitazioni vicine. I vigili del fuoco di arco, aiutati dai colleghi di riva giunti immediatamente sul posto, hanno impiegato circa un'ora per avere ragione delle fiamme. Saranno i carabinieri a stabilire le cause che hanno provocato lo sviluppo dell'incendio.